Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego dove trovare due mausolei ambulanti che si nascondono proprio qua sopra su questa montagna, sono proprio invisibili, non li ho mai visti, quindi stanno qua sopra vicino all'albero madre minore se volete c'è anche un avatar, quell'albero grande che puoi ammazzare, in cambio ti darà qualche ampolla, ti darà qualche incantissimo quindi se sei interessato vai lì, intanto io adesso ti faccio vedere la strada per andare a prendere questi due mausolei e ottenere due belle rimembranze quindi ci faranno veramente molto comodo queste due nuove rimembranze quindi una volta superata questa bellissima statua, veramente bellissima, ed eccolo qua, ce lo troviamo davanti il primo mausoleo quindi per quelli che già sanno come farlo crollare, basta colpire questi teschi, questi schederi accanto alle gambe basta che ne colpite uno, due, tre, o per una gamba, non lo so, non l'ho mai capito, ho colpito tre, quattro teschi poi questa cosa non l'ha mai fatta, ecco questa mossa non l'ha mai fatta, io non l'ho mai beccato, mausoleo che salta e poi vuole schiacciarti e siamo dentro mi prendo questa tanto le ho tutte ok, adesso non ci resta che trovare la seconda la seconda invece sta proprio qua vicino, è proprio accanto a questo mausoleo però ancora più in alto, eccola là qui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti